ciao ragazzi adesso andiamo a doppiare il film di siamo solo orsi seguitemi ed eccomi qui allora io sono pronta metto la cuffia perché ora doppierò la mia parte quindi leggerò le battute sul film che verrà proiettato proprio qui chiamiamo la polizia parle ma che significa come qua è 90 milioni di follower vero come credevo voi fosse star di video no questo per favore cancellala grazie chiamiamo la polizia e con questo abbiamo finito brava fine fine ho finito sono stata brava ciao